A voi tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Nuova Televisione. In primo piano ancora una volta la Sartiglia di Oristano, questa volta però non per celebrare le gesta dei cavalieri, ma per ritornare su quella dimenticanza che poteva costare davvero cara. Quello tratto di Piazza Roma lasciato senza sabbia ha rischiato di danneggiare seriamente l'edizione appena chiusa della giostra e ora il primo cittadino chiede scusa ai cavalieri. Pochi metri di pavimento, nulla rispetto ai lunghi tratti di percorso accuratamente ricoperti di sabbia. Eppure quella dimenticanza, ammessa dallo stesso direttore tecnico della Fondazione Sartiglia, Filippo Uras, ha rischiato di costare davvero cara durante il trasferimento del corteo dei cavalieri della Sartiglia dalla via Duomo alla via Mazzini. Il marmo bianco, scivolosissimo nei pressi della fontana di Piazza Roma, si è rivelato un'autentica trappola per numerosi destrieri. Ecco la eroina, puro sangue inglese montata da Gianluca Faedda. Ci prova a rimanere in piedi ma i suoi zoccoli slittano sulle lastre rese ancora più sdrucciolose dalla presenza di coriandoli e residui di schiuma spruzzata dai più piccoli. Sul posto sono dovuti intervenire i veterinari che hanno fatto caricare l'animale su un box per eseguire gli accertamenti. Nessuna conseguenza grave, fortunatamente, ma tanto spavento. L'immagine, circolata immediatamente su un social network, ha suscitato però sdegno e rabbia. Per evitare simili incidenti, solitamente su quel tratto di percorso veniva sistemato un lungo tappeto rosso, un dettaglio mancante in un complesso meccanismo organizzativo che, occorre dirlo, non ha mostrato altre lacune. Lunedì mattina si è cercato di mettere una topa con la sistemazione di un telo bianco sul quale è stato steso uno strato di sabbia. Come dire, meglio tardi che mai. Devo solo chiedere scusa a loro per quanto è accaduto domenica sera sulla Fontana e anche qui il ringraziamento mio nei loro confronti non solo è dovuto ma veramente con grande sincerità perché hanno vissuto quella situazione, l'hanno gestita in maniera eccezionale, con grandissima professionalità, senza, come dire, incutere paura o preoccupazione in quanti assistevano a una situazione che oggettivamente poteva essere pericolosa. E al Sindaco abbiamo chiesto anche un bilancio generale sulla giostra. Penso che sarà un'annata da ricordare perché Oristano è stata invasa e tra l'altro non solo la domenica e il martedì ma in tutti i giorni, a cominciare dal giovedì quando abbiamo iniziato un po' le manifestazioni del carnevale, abbiamo visto soprattutto il centro di Oristano invaso da persone come non si vedevano da tanti anni. Abbiamo avuto anche presenze che hanno fatto piacere agli spettatori, penso alla presenza del presidente della Dinamo, del capitano De Vecchie, grande presenza dei croati, molto apprezzata da tutti, non solo perché era la prima volta che i croati venivano in Sardegna a ricambiare la visita che noi abbiamo fatto a Signi l'estate scorsa, io ho sentito da parte di molte persone degli apprezzamenti per i costumi, per il modo di andare a cavallo di queste persone. Mi sento proprio di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con la Fondazione, gli operai del Comune che dai vari settori hanno garantito una presenza, dal settore delle manutenzioni a quello del settore ambiente. Poi abbiamo toccato con mano cosa significa avere il numero dei vigili urbani che noi abbiamo, che sicuramente non è adeguato alla nostra città. Ebbene, abbiamo potuto constatare che pur non ricorrendo, come facciamo per esempio per Mondo e Chennusa, qui non abbiamo fatto ricorso agli uti esterni e abbiamo fatto tutto in casa e devo dire che anche questo è alla luce di tutti quanti hanno potuto osservare che nei punti strategici dove servivano i vigili urbani e la Polizia Municipale è stata sempre presente. Un'ultima cosa, un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine. Anche quest'anno, nonostante le paure che c'erano prima della Sartiglia per l'inaspiramento delle misure di sicurezza, queste paure sono venute a meno perché non abbiamo avuto né grandi file, né automobilisti che strombazzavano perché incavolate per i blocchi. E questa sera alle 21 e in replica alle 23 vi proponiamo il tradizionale dietro le quinte girato nei giorni della Sartiglia. Quello odierno è dedicato alla giostra di domenica. Non perdetevelo perché come al solito vi mostreremo i lati della Sartiglia che non si vedono durante le dirette televisive. Eccovene un'anteprima. Tutto a posto? A presto. Grazie. A posto? Sì, i complimenti. Grazie, grazie. Un bacio. Grazie. 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 Un'imponente macchina organizzativa che ha visto in campo tanti uomini della Questura. Tutto è andato bene? Non solo della Questura, della Questura, dei Carabinieri, della Finanza, di tutte le forze di polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e perché no anche l'onerosa presenza dell'esercito che ha saputo gestire la sicurezza materiale e fisica della città. A tutti diciamo grazie, compreso il mio predecessore. Ha parlato di un ruolo di cerniera, in che senso? La Questura è il ruolo di cerniera tra tutti coloro che operano e quindi svolgono servizi sul territorio a favore del cittadino. Noi cercheremo anche di raccordare altri uffici per rendere sempre più efficace questa nostra funzione. Il cittadino deve sapere che qui c'è una centrale di garanzia dei diritti e delle libertà. Portare i giganti del Sinis tra i ragazzi e dentro le scuole. Anche in questo modo la Regione intende valorizzare e promuovere le statue di Montepramo. Un progetto ambizioso che ha già dato i suoi primi frutti. Parola dell'assessore regionale alla cultura Claudia Filino. Web, scuole, fiere nazionali e internazionali. Così la Regione intende valorizzare e far conoscere i giganti di Monteprama. A disposizione 350.000 euro che serviranno per mettere a punto il cosiddetto piano di comunicazione sul complesso scultoreo. Le risorse e 2 milioni di euro in tutto provengono dal patto siglato il 29 ottobre 2014 tra Regione, Ministero e Soprintendenza Archeologica Comune di Cabras. Ad aggiudicarsi la gara è stata la RT con capofira alla società poliste. Sono state create delle linee guida, ha detto l'assessora regionale alla cultura Claudia Filino, attraverso un approccio multidisciplinare e un convolgimento dal basso di tutti gli attori interessati. L'obiettivo è unico, rendere fruibile a tutti e attraverso ogni tipo di canale il patrimonio archeologico di Monteprama. La titolare della cultura ha sottolineato inoltre l'importanza di far conoscere il progetto ai giovani e nelle scuole. L'azione coordinata sarà indispensabile per farlo. Loghi e colori, portale web unico dove poter acquistare anche biglietti per le visite museali e contatto stretto con gli operatori turistici. Ci saranno questi, punti cardine del piano di comunicazione. Da non tralasciare infine l'educational tour e la mostra del prodotto in fiere nazionali e internazionali, un progetto ambizioso che ha già dato i suoi frutti. Parola dell'assessore Claudia Filino. Il sindaco di Cabras, Cristiano Carlos, chiede un incontro urgente all'ANAS affidatario delle risorse per la progettazione e l'appalto delle opere per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Cabras e Torregrande. Nonostante le tantissime lettere incontri e rassicurazioni, dichiara il primo cittadino, nulla è stato fatto e l'incrocio rimane l'intersezione più pericolosa. L'auspicio, conclude il sindaco, è che l'ANAS possa ascoltare questo appello e convochi immediatamente un incontro per fare il punto della situazione. Il 10 e l'11 marzo prossimi a Bauladu torna a Nantide Saziminera. Tanti gli appuntamenti del Festival Letterario. Si parte venerdì alle 17 con un incontro sullo spopolamento in Sardegna. Ad ospitarlo sarà la chiesa di San Lorenzo. Milis invece l'11 e il 12 marzo apre le porte alla 17esima edizione di Primavera in Giardino. Quest'anno la mostra a mercato sarà dedicata alle piante grasse. Per due giorni Bauladu, un piccolo centro dell'Oristanese con 700 abitanti, si trasformerà in un villaggio a cielo aperto. Cultura, buon cibo e tradizioni per l'ottavo anno consecutivo daranno vita al Festival Letterario a Nantide Saziminera. Evento oramai consolidato che ha ricevuto un importante riconoscimento dalla regione. Ci saranno vari incontri di letterari all'interno di case private, all'interno di luoghi di culto, ad esempio alla chiesa di San Lorenzo di Bauladu. All'interno delle biblioteche, infatti le biblioteche resteranno aperte addirittura fino alla mezzanotte. Tanti ospiti, è un'occasione per mettere in mostra le particolarità e l'identità stessa di Bauladu. Abbiamo avuto la bella notizia dalla regione Sarda che ha accolto la manifestazione come una manifestazione di grande interesse turistico. Incontri, conferenze, spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici venerdì 11 e sabato 12 marzo saranno protagonisti del Festival. Comune, consulta giovanile, associazione Iana Berta, da anni uniscono le forze per organizzare l'evento. L'amministrazione civica ha stanziato 8 mila euro e i ragazzi della consulta si adoperano come possono per autofinanziarsi. Abbiamo ideato con l'associazione Iana Berta un'iniziativa che si chiama Adotto un ulivo. Da due anni ormai gestiamo l'area archeologica di Santa Barbara in cui è presente non solo il nurai con il villaggio ma all'interno è presente un olivetto adottando circa 50 olivi dietro un contributo ovviamente da chi ha adottato l'olivo di finanziare il Festival, perlomeno in minima parte. Restano una cinquantina di ulivi da adottare, quindi chiunque voglia lo potrà fare. Certo, lo potrà fare in occasione del Festival. Fantasia e spirito di iniziativa non mancano di certo a non essere sufficienti sono i fondi. Dopo aver attribuito al Festival il riconoscimento di manifestazioni di grande interesse turistico la Regione avrebbe dovuto stanziare 6 mila euro. A oggi i denari non sono arrivati, la speranza degli organizzatori è che quanto prima ciò avvenga. Un viaggio alla scoperta del Kenya più autentico, lontano dal mondo dorato dei resort. Questo significa turismo sostenibile, uno stile di vita che l'Osvik di Oristano ha sposato da 4 anni da quando i primi viaggiatori sono partiti dalla nostra isola alla scoperta del continente africano. Un'avventura particolare contornata anche da tanti progetti di solidarietà che il mondo della cooperazione e del volontariato internazionale realizza. Per far conoscere meglio una realtà molto ancora sconosciuta l'Osvik organizza due appuntamenti, il primo al Dream Café di Via Cagliari domani 3 marzo alle 18, il secondo al Centro Servizi Culturali Unla di Via Carpaccio il 6 marzo sempre alle 18. Angelo Pinna ha 40 anni di Oristano, il nuovo presidente nazionale dell'Unisub. Eletto all'unanimità nell'assemblea svoltasi ieri a Roma, Pinna sarà capo dell'Associazione delle Guide Ambientali Subacue e Professionali per 5 anni. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.